E salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di Toxigamer88 Riprendiamo su Fallout New Vegas nel DLC Old World Blue Quindi, ci troviamo qui Il salvataggio l'ho già fatto? Sì, ma lo rifacciamo per sicurezza Livello 28, ultima speranza dell'umanità Allora, qui ci sarebbe da parlare con tutti sti tizi Cosa c'è in questo armadietto? Con la camice da scienziato che prenderò occhiali da... Perché ci dà un meno due? Ma li prendo uguali perché ci serviranno per fare altro Trementina non la prendo A meno che non mi serva, ma ne dubbi Cosa cambia? Nulla Ok, ho anche un camice da paziente, ma non mi interessa Rimettiamoci l'armatura Ok Va bene E cominciamo ad affrontare seriamente questo DLC Lo scorso video ragazzi ho dovuto farlo in quella maniera Perché io non ricordo nulla di questo DLC Avevo detto che sarei andato a controllare Ma lo dico sempre, alla fine ragazzi non funziona mai Possiamo parlare con l'unità centrale del pozzo Emettitore sonoro Rivelazione ora disponibile nell'interfaccia venditore Saluti e felicitazioni signore E il più caloroso benvenuto al pozzo Sono il suo cameriere elettronico personale Allora Purtroppo no signore I moduli in questo habitat sono personalità sintetiche Va bene, vuoi dire che ci sono altri moduli di personalità qui? Proprio così signore Ma se il signore pensa di attivarli Mi rincresce signore informarla che molti sono rimasti Se posso esprimere la mia opinione Ritengo che al signore Tuttavia se il signore è determinato a far presente la mediocrità dei loro servizi Potrà Va bene, perché? Gli altri moduli sono inaffidabili signore Le loro matrici di personalità sono basate su una logica scorretta E con gli anni si sono deteriorati Quindi posso accedere alla loro funzionalità Senza caricare io lo nastro della personalità Purtroppo anche i sistemi operativi principali Quindi ci servono questi nastri Una volta installato il nastro signore Può richiedere che io spenga le loro interfacce dialettiche Tuttavia signore avremo bisogno di trovare Va bene In progetto ci servono questi olo nastri per sbloccare le altre funzioni Va bene Quali servizi fornisci? Ok, alla mensa Qualsiasi cosa il signore voglia può essere acquistata attraverso la mente Ah, interessante Vorrei comprare alcune cose Possiamo anche riparare Allora, proiettili Perfetto Acqua purificata C'è la microfusione IEM Bonus danni contro robot Armatura atomica E paralisi Se lo prenderemo Lo prenderemo sicuramente Libro prebellico Libro prebellico Lo prendo Costa 1 Guanto da scienziato Danni 20 No perché abbiamo Poca Radaway Lo prendo Steam pack Dammeli tutti Tu tante radiazioni Non ce l'ho Ma l'acquisto uguale Accettiamo Sono a posto così ragazzi Armi Allora C'è stato dato Questa arma Che è tipo un mitrozzo gigante Ve lo faccio vedere E spara così Ricarichiamo Poi Questo di qui Ah ma ne ho due Ne ho due E posso ripararlo Parò danni più 0% Quindi ce lo teniamo Ok Direi proprio di Perché mi indica di qua Dove dobbiamo andare Missione Trove moduli perduti Per il pozzo autodoc Vedete ci sono Veramente tante cose Da fare Tutte queste sono Missioni Per qui Allora Partiamo da questa C'è anche questa Tuta Presumo Allora Nel solito voglio provare Perfetto Mi piace questa arma Abbiamo 1100 munizioni Allora La perks Questa di qui Signori Un attimo Cazzo Che è successo Ho sbloccato qualcosa Vediamo Il serbatoio del pensiero Allora Noi abbiamo una perks Abilità extra Che si chiama Il professionista Sono esperto Nell'attaccare Il nemico di nascosto Gli attacchi furtivi Letali Con pistole Le revolver Mitragliatrici Da fuoco Energia Inflingono Il 20% Di danni in più E presumo Che sia anche Con le pistole E questa è una pistola Ora Non ho mai giocato Questo DLC Con Lamb E Porca miseria Il gioco È un fottuto Spettacolo Lobotomista Ok I robo scorpioni Sono un di te Calcolate Che siamo da soli E procederò lentamente Tanto ho sistemato Finalmente Il programma di registrazione È tutto Ma non faccio nulla O cosa Devo provare Non mi piace Non mi piace Affatto Armi Sì perché Contro robot Armature Atomiche Quindi Utilizzeremo Il buon vecchio Fucile da caccia O fucile laser Fucile laser Ha una pistola De 10 mm Che si è compenetrata Nel terreno Ma non ce l'ha fatta Una beata minchia E quindi Sti cazzi Allora Parliamoci Che il nostro personaggio In questa tenuta Un L'aspetto fisico È quello semplice Quindi non ho modificato Alcun È veramente Un fottuto Spettacolo Allora Tu hai Munizioni da 8 Occhiali da robotomita Prenderemo la tuta Pistola E basta E cominciamo a dare Un po' di senso A questo Coso Occhiali da robotomita Con questo Poi Tuta da robotomita Con niente Perché Le voglio tenere tutte Ci danno bonus particolari Cerchiamo di Forza più uno Ottimo se Volesse utilizzare Il Oh Già vedo un altro Un colpo in testa Quella cettina la voglio E allora Nella mappa Dovrebbero essere indicati Tutti i luoghi Uno Due Tre Dove trovare Le interfacce Per il serbatoio Del pensiero E Non ricordavo affatto Questa Zona Cioè Veramente ragazzi Ho messo soltanto L'embe Come mod grafica È qualcosa Per migliorare La stabilità Del gioco E vi posso garantire Al 100% Che Non ha nulla Da invidiare A fallout 4 Ad altri giochi Più moderni E altre cose Qui Ci sono Soltanto Cose da vendere Ma non le prenderò A parte Munizioni e tappi Va bene Perché Non siamo Propriamente al top Io ho portato La katana L'accetta La prendo Il camice da paziente E la maschera Occhiali Macchinina E posacenere Ok Ripariamo il camice da paziente Vedete Vedete Non da nessun bonus Soglie a danni 1 Noi abbiamo 25 Appunto Allora Diriggiamoci Da questa parte Perché appunto Voglio proseguire Per questa prima missione Che si intitola Facciamo le cose per bene Tutti i miei amici Hanno interruttori Per spegnersi Trovo i moduli perduti Per il pozzo L'autodoc E la stazione di ricerca Biologica Cioè io posso affermare Che a parte Che la luce accecante In questa maniera È dannatamente Fatta bene Potrei andare qui Poi infilarmi qui Oppure prendere dritto E arrivare qui Ma io voglio andare qua Proviamo dritti Allora Dobbiamo stare attenti Agli scorpioni Sono i nemici Più pericolosi Di tutto il gioco La difficoltà Per chi non lo sapesse È settata al massimo Molto difficile Non metterò mai duro Perché la reputo Una modalità stupida Cioè mangiare E bere Ma vaffanculo Io voglio giocare Oh oh Mi dice attenzione Perché? Ah ma io ho dimenticato Una cosa importante Non ho più I sensori potenziati Allora Ma io ho dimenticato Facciamo molta attenzione Sei stato bravo Mi hai colto di alla sprovvista Ma non per questo Significa che puoi battermi Allora camice da paziente E qui ne abbiamo un altro Cosa possiamo riparare Questo con Ok ripariamo gli altri occhiali Da robotomita E anche l'accetta Allora Devo cominciare a sistemare il personaggio Allora pistola da 12 10 Oppure da 9mm 9mm Poi Fucile laser Ho sbagliato Fucile laser Katana E in casi estremi L'antimateria Questo Il 7 Voglio il gauss E l'8 Voglio la mia Il mio revolver da caccia Ma preferisco usare la pistola Non capisco se spara bene o male Ok Ok sono belli duri E' il momento di provare L'accetta Ascia protonica Bonus danni contro robot E armature atomiche Ottimo Maschera da robotomita E tuta da robotomita Va bene Questa Accetta E' buona Ma preferisco L'altra Però Da danni contro i robot Quindi non mi serve Camice riparato Occhiali da robotomita Da riparare Con qualcosa Con nulla Un attimo Ripariamo anche la tuta Da robotomita Con il camice da paziente Ma io la pistolina Mi piace Ragazzi Allora I nemici Sia chiaro A questa difficoltà Sono belli tosti Attenzione Non sono più abituato Ma quello è un eye stalker Dovrei poterlo gestire Allora Quest'arma ha un problema E non possiamo più utilizzarla Perché non funziona Rimetti il mio Setup Da Ehm Usiamo quella da 12 Proviamo Questa è molto più faica Nascosto Un colpo con questo Buttiamo a terra Pure il mondo Non capisco Se è un problema Di armi Non comprendo Sarà l'elevata Difficoltà Del titolo Del DLC Ok Qui vedo qualcosa Che voglio Provare A prendere Armadietto Cella Pacco Pacco Batteria elettronica Non comprendo Appieno Il significato Del Mi piace di più Quella da 9 mm Se io volessi Utilizzarlo Ok Cioè Non voglio essere Qui c'è qualcosa Z9 E comincieremo A utilizzare Anche le bottiglie Di sunset Finalmente Una alla volta Vabbè Prima la nuca cola Allora In questa zona Cosa c'è Dai dimmi Qualche libro Ah no Ci andiamo dopo Tanti oggetti Prima voglio Sbloccare Questa Benedetta Queste Dobbiamo andare Dritto da qui Vediamo Vedete Quanto è bello Poter giocare Al titolo Senza avere Fretta Tranquillo Ogni zona La sbloccheremo Non vi preoccupate Le sbloccheremo Tutte Nucle Cola è svanito Però Sono affetto Anche da radiazioni Quindi presumo Che dovrò Consumare Uno Radaway Qui c'è un'altra Location Che voglio esplorare Velocemente Quarzo Nuca E vittoria Nuca Ok Vedete Quanto è bello Poter registrare Senza Munizioni Si Ci sono le radiazioni Ma non mi interessa Zona Bersaglio Boomtown X7B Secondo me Sto facendo Un'enorme Cazzata Perché Ma non è male Ma non è male Sia chiaro Minchia ma qua è pieno Porca Porca puttana Spare laser Ok Ok in questo Ok in questo caso Sei per cane Sei per cane Poliziotto Rex Rex Esatto Ecco qual è il segreto Per Per vincere qui Dov'è l'altro No Poverino Giocare in questa maniera Non c'è altro Non è inutile che sto qui a dirvi fesserie Mi sparo una sunset E parto Ecco Cazzo è che mi sparo Oh cazzo un robot Ok contro il robot È inutile Vorrei provare Quest'arma nuova Dov'è la pistola Robo Servello Marche 3 Allora Fermo Fermo Per robocervello Non mi piace Cazzo Sto vedendo duro Fucile Gauss Non ci serve Ascia protonica Cos'è successo Setti alzi Setti alzi Setti alzi Setti alzi Setti alzi Setti alzi Non sono programmato Scusate se non ho parlato Oh cazzo c'era un'altra Un ragazzo mi aveva scritto Vedi che nel DLC Dovrei sudare Aveva pienamente ragione Aveva pienamente ragione Perché sto sudando Sto sudando E sto soffrendo perché Allora Due sono le cose appunto sulla furtività E sul fucile gauss E qui non posso Devo rimettere di nuovo tutte le armi Bene fucile gauss Poi arma numero 3 Ascia parotonica Fucile arma numero 4 Il fucile antimateria Arma numero 5 La katana 6 Il laser 7 Metterò La sunset E 8 Lo steam pack E usciamo da qui e poi ci curiamo Ma allora Dobbiamo andare dritti Il gauss ragazzi Non posso Fare nulla Molto Difficile E' dritto davanti a noi Questo obiettivo Maschera da ok Mi piace Ci garantisce un bel Ma qui le sunset ci sono Quindi sono tranquillo Ma mi mancano il ride away Dov'è sta zona Dobbiamo entrare Edificio medico Y17 Ed è quello che faremo In questo episodio Sto sudando E' inutile che Dovevo creare Degli auto steam pack Lo so Porca puttana Via Esci da qui E' inutile che Ragazzi se non parlo Perché sto cercando Di capire Ok Digenerazione della salute Stamina più uno Ok Questo ci serve Lo metteremo adesso Avete presente? Armi Veste Posso ripararlo Con maschera da ok Oppure occhiali Dall'obotomita La maschera Dall'obotomita Io La maschera da ok La riparo E sti cazzi Rigenerazione saluta Voglio capire se funziona Anche Facendo passare Di un'ora il tempo E funziona Alleluia In questo modo Vediamo Facciamo passare Due ore Sì Sto amando Le armi da mischi È inutile Sì c'era un altro Lì sopra Ok Vuoi giocare pesante? Vuoi giocare con me? Vabbè Non siamo di livello massimo Però il bello di questa Serie è appunto questo Provare cose nuove Qui vedo uno Stale boy Utile come il pane Sì Ah Posso sommarlo E allora posso fare Un'altra cosetta Vediamo Dimmi di sì Posso utilizzare Questo insieme Al No Però lo posso utilizzare Insieme al berretto Primo ricognitorio Va bene Dai Ci permette di Di generare Un po' di salute E non è affatto male Ma preferisco Attualmente Utilizzare Quest'ascia Che si sta rivelando Molto Molto Importante Tuvi Chirurgici No Ecco Potenziamento Autodoc E questo è quello Che ci serviva Come faccio Mi si ruota Mi si ruota il fegato Qui c'è un altro Qui c'è un altro Qui c'è un computer Presumo posso utilizzarlo Non prenderò il rottami di ferro Anche se Potrei metterli Da qualche parte Terminale Serra madre Campo Campo di prova Il serra madre Altri Un Che l'altro DLC Questa è una cosa Che mi piace Vabbè Leggetelo voi Tutto questo Beh Questo oggetto Che abbiamo preso Ci faciliterà Tantissimo Le cose E durezza Ci serve Controlliamo tutto Senza fretta Accendiamo anche la luce Perché vedete Già stavo missando Una sunset Insieme Alle mentas No Dovevo prendere la mentas Ok Qui c'è altro In questa scrivania Non credo Adesso Non so Come si sblocchino Oh ma qui ci sono Delle scelle Di energie Che non ho preso Fatemi controllare Mappa Qui Non devo fare Più nulla Però non so Come si apre Questa porta Vorrei provare A utilizzare Quell'arma Che mi hanno dato L'ora Emettitore sonico Non posso Assolutamente Sbloccare nulla Va bene Ficcire Gauss Fammi compagnia E andiamo Da un'altra parte Guardate Che bello Di notte Ora Le altre zone Dove si trovano Dietro Quindi Andiamo Qui Perché Ci proviamo adesso Vediamo se ce la faccio a fare Tutte e due Sì Di notte È uno spettacolo Ma preferisco Il giorno Così Ci godiamo meglio La luce solare Si Diciamo che Mi aiuta parecchio Il fattore Questa aureola Che Mi gira in testa Sacrifico gli occhiali Ma non è che sia una gran perdita Ha un pugno Potenziato Vero Cazzo Sono di più No In questi casi Preferisco utilizzare La mia Fedele Katana Pugno di saturita Aumenta Velocità di attacco Aumentata Ottimo Sarebbe da provare Ok L'avete visto Ah i satelliti Va bene Lascia protonica Riparata Poi Ma da provare Però Dalla distanza Siamo molto penalizzati Dobbiamo andare avanti Serve un posto rialzato Per capire Se ci sono nemici Hai perso la tua arma? Vieni qua Dove vai? Male? Avete fatto i conti Con l'uomo sbagliato In questo episodio Fucile caravan Il pompazzo Ci divertiamo Non prenderò la colla prodigiosa Soltanto per motivi di spazio E lo so Sono pesantissimo Ma non è un problema Voglio raggiungere subito L'altra zona Guardate quante cose ci sono Una forcina Allora Sistemiamo un pochettino Sporre tanto che vi piace Questo fattore Di portare Ok Maschera da lobotomita Eccola qui Poi Occhere da lobotomita Me ne serve uno intero Ok Poi Tutta da lobotomita Ok Ci siamo tolti Ante questo Occhiale da lobotomita E infine Ci mancano Gli occhiali autoritari La maschera Occhiale Robotomita Quindi dovrei avere Maschera da lobotomita Da riparare E basta Camice da paziente Che possiamo utilizzare Per riparare cosa Pesano due Non mi servono Buttiamoli Me ne basta uno Allora Questa zona Mi ricorda Qualcosa del tipo Scorpione Zona sicura Ragazzi Proagine In azione Dobbiamo andare Dritto di lì E vedo già qualcosa Che arma di merda A saperlo Reaper time Forza Vieni qui Vieni qui Amo sto gioco È inutile Dammi la sette No non prenderò Vabbè la maschera La prendo Soltanto per riparare Quella che ho Dammi il pugno La zona Se non erro Ci sono gli scorpioni Oltre una mina Allia Non capisco il motivo A meno che non possa scendere Da qualche altra parte Ora Salvo qui Ok Sono nascosto E questa è una cosa Positiva Per ora Eccolo qui Il robo scorpione Ora il robo scorpione Non dire in culo Ma fin quando ho questo Voglio provare Ad affrontarlo Avviso Scoperto Ecco Questi tizi Sono Sono Stati Il mio Incubo La prima volta Che le affrontai Ha difficoltato Normale Perché esplodono Dov'è l'altro Ma scusate Ho i candelotti Vabbè Almeno ce li togliamo Vediamo quanto facciamo Di danno L'importante è Toglierceli dai piedi Ecco Sono in troppi Siamo morti Perché Ho sbagliato Cazzo è Non mi sfuggirai Meno mati Ok Io devo Ma si è curato Ma non ho più sunset Forza 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 Il mio consiglio A questo punto Utilizzate L'ascia Protonica Ma 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 Vaffanculo Sono anche Dietro Non mi sfuggirai Ecco la vera potenza Del mio esercito Mi sto divertendo Il mondo è un mondo Ragazzi E creene Quanti cazzo Ne vuoi Questi sono i nemici Che mi danno Che mi danno più force È livellato Vaffanculo Disarmato Ci serve a volontà Perfetto Al prossimo livello Prenderemo un'altra perk Come i cristiani Salviamo Faccio passare Sette ore Vediamo quanto ci curiamo Non so nemmeno Da quanto sto registrando Non mi interessa Mi sto divertendo E basta Ok Faccio passare 24 ore Nella speranza Che mi Curi tutto A questo punto È il giusto compromesso Allora L'ascia Protonica È utilissima C'è poco da dire E A questi livelli Di difficoltà Le armi da mischia Fanno male E presumo Che prendendo Durezza Il mio personaggio Diventi veramente Formidabile Siamo Carichi L'armatura metallica Resiste bene È una cosa importante Ah ma Non ho preso nulla Da questi Scelle di energia Moduli sensori Ora è qui Che dovevo andare Sì o no Vediamo se riesco a completarle In un episodio Sta missione Anche se è dura Ah questa è un'acqua Che ci permette Di curarci E non consuma Non ha radiazione Ottimo Perché mi indica Adesso un solo Cosa Ah già abbiamo finito Allora possiamo Andarci all'ultimo E basta E completiamo La quest Mi sto divertendo Un mondo È una cosa Che ripeterò Sempre Perché appunto Mi diverte È un po' più lontano Cerciamo una corsetta Dai Gauss Non mi tradirà mai Abbiamo affrontato L'ira di dio Di scorpioni Ragazzi E non E non sono affatto Scocciato Dalla difficoltà Del DLC Anzi Mi sta mettendo Un poco In difficoltà Ma è giusto così C'è un nemico Da qualche parte Sicuramente è sopra Quindi Pericolo Pericolo Da parte di chi? Non mi interessa Ma andrò dritto Per la mia strada Ok La perks Qui per Che fa più Da Nel robot Presumo Sia abbastanza Uno scorpione Uno scorpione Che tenta Ma scusate Ma scusate Io non ho qualcosa Che aumenta la forza Tipo qualche Veste Non dico Un'armatura Che aumenti la forza Vediamo se ce l'ho Scienza Forza Ora ci sei Tra poco Tra poco Cosa Stupido Non puoi vincere Contro di me Sono dannatamente OP Allora Il mio consiglio È il seguente Utilizzate Il Merda 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 Quella katana Ok Vuoi giocare duro Figlio di puttana Vuoi giocare duro? Non vuole giocare duro Forza Dove siete? Paziente 0 Vieni qui Oh eliminato Cosa mi dai? Il sanguinaccio nero Lo prendo Perché mi dà Molti punti salute Quindi presumo Che tu mi darai Anche del Nulla Utilizzo il Vaz Mi sa che abbiamo Finito C'è altro Le vacca troie Ce ne sono ancora Dai Uccidiamo questo Diamo l'esplorata Qui e poi Ci salutiamo Anzi Vediamo Facciamo proprio una cosa Veloce Veloce Prenderò questi pacchetti Di semi Non so se servono E va bene L'altra cosa Ci passeremo dopo Non mi va di affrettare Tutto Porca puttana Le gambe Le gambe Niente ragazzi Ci possiamo Per me Salutare Qui Per questo episodio Non siamo andati male Mi Sto divertendo È una cosa Molto positiva Quindi Andiamo qui Ragazzi Io spero tanto Che l'episodio Vi sia piaciuto Io mi sono divertito Mi raccomando Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Alla prossima